Il film di questo pomeriggio in onda su Rai 1 è una vita da star. A seguire andrà invece in onda una nuova puntata della vita in diretta che ci terrà compagnia ancora per tutta la settimana. La protagonista del film Una vita da star è la brava Febby, che ha avuto un grande successo come cantante ma poi il destino ha scritto per lei altri pagine di vita, e adesso scopriamo delle anticipazioni che ci rivelano la trama del film Una vita da star in onda oggi su Rai 1. Buona visione a tutti voi.esclamativo film in tv oggi 6 giugno 2018. Su Rai 1 vai in onda una vita da star, ecco la trama Un tempo famosa pop star, Debbie e Taylor è sul punto di perdere tutto, compresa la sua libertà, quando scappa nel natio Olaio, e si reinventa insegnante di musica per un talentuoso gruppo di ragazzini disadattati. Debbie dimentica le sue abitudini da donna adulta e cerca di conquistare i suoi allievi, che sono felicissimi di avere una insegnante famosa come lei, e non riescono a credere, che in un posto piccolo come quello in cui loro vivono, possa essere arrivata una grande star. Vogliono quindi cercare di fare il meglio per avere il successo che anche lei ha avuto in passato. Mentre cerca di ritrovare il successo grazie agli allievi più talentuosi, si rende conto che nella vita il successo non è tutto. Nel passato da star, ha lasciato anche gli amori complicati di chi forse le stava accanto solo perché era una donna famosa, ma adesso le cose cambiano e anche gli obiettivi della donna sono diversi. Riuscirà a farsi che il gruppo dei suoi ragazzi possa sfondare in tutto il paese. Il suo obiettivo adesso è solo questo. Ma insieme al successo, potrebbe anche trovare un uomo che l'ami per quello che lei è oggi e non per la star che c'è stata in passato, titolo originale Summer of Dreams Usa, 2016 Genere. Drammatico durata 85 film per la tv regia di Mike Roll. Con Debbie Gibson, Robert Gant, Pascale Eutton, Lanne Edwards. Ken Tremblet, Lauren McNamara, Daniel Bacon, Sean Burnett, Simone King non vi riveliamo il finale del film. Appuntamento alle 14 su Rai 1 subito dopo il telegiornale per seguire il film Una vita da star. Buon pomeriggio a tutti voi.Stampa. .